L'essere innamorati Sigmund Freud, 1836-1939, in Opere complete, 1955, dice L'essere innamorati consiste nel riversare la libido dell'io su un oggetto. Ciò ha il potere di rimuovere le repressioni e ripristinare le perversioni. Esalta l'oggetto sessuale trasformandolo in ideale sessuale. Poiché con il tipo di oggetto o con il tipo di attaccamento l'innamoramento ha luogo in virtù dell'appagamento di condizioni infantili per amare, possiamo dire che tutto ciò che soddisfa questa condizione è idealizzato. Commento L'essere innamorati consiste nell'abbattimento dell'io in proporzione della propria evoluzione. L'essere innamorati esalta la persona amata in un ideale superiore. L'innamoramento avviene per un ampliamento del sentire di chi ama.